Emanuello è il compagno della cantante Giorgia. Andiamo a scoprire tutto su di lui, a partire dalle origini e dal suo vero nome Emanuello è il compagno della cantante Giorgia, oltre che un eccellente ballerino Andiamo a scoprire tutto su di lui, a partire dalle origini e dal suo vero nome Leggi anche, Giorgia, tutto sulla cantante, età, cognome, compagno, figlio, Alex Baroni, padre, Instagram Chi è Emanuello, il compagno della cantante Giorgia? Emanuello, oltre a essere il compagno della bravissima cantante Giorgia, è un ballerino dall'enorme talento, esperto e professionale al punto che Maria De Filippi lo ha voluto come coach nel suo talent, nell'edizione di Amici 2017 Il fidanzato di Giorgia ha notevoli esperienze professionali, a fianco di artisti internazionali del calibro di Robbie Williams, Ricky Martin, e Luciano Pavarotti Il suo nome non appare molto sulle riviste e nel web se non per la relazione sentimentale della cantante Giorgia, nonché madre di suo figlio Età Emanuello ha 42 anni, è nato a Roma l'11 luglio 1979, sotto il segno zodiacale del cancro Vero nome di Emanuele Lo il suo vero nome è Emanuello Iacono Origine di Emanuello, il compagno della cantante Giorgia Emanuello si è appassionato alla musica fin da bambino, tanto da iniziare lo studio della chitarra e della batteria mentre contemporaneamente scriveva le sue oltre prime canzoni e si avvicinava al mondo della danza Il debutto in televisione avviene alla RAI e, dopo aver conosciuto il coreografo Luca Tommassini, con cui ha lavorato per anni, inizia a esibirsi nelle tournee di artisti importanti e internazionali, come Kylie Minogue, Robbie Williams, Ricky Martin, Luciano Pavarotti e Giorgia Grazie proprio a Giorgia, che diviene la sua compagna di vita, la sua carriera ha una svolta importante, perché si esibisce come cantante durante il tour promozionale di Ladra di Vento dell'artista Emanuello con la compagna, la cantante Giorgia Foto, Today It nel 2007 ha debuttato dal punto di vista discografico, con il singolo Buffer, in collaborazione con il rapper Tormento, che ha anticipato più tempo, il suo primo album Nello stesso anno ha lavorato al disco di Giorgia, Stonata, e nel 2009 ha pubblicato Cambio Tutto, il suo secondo album, nato da una collaborazione con Bingo Fish Nel 2010 si è occupato delle coreografie di X Factor Italia e nel 2011 si è affermato come regista girando video di Giorgia, Sal Da Vinci, Ornella Vanoni e Clementino Nel 2013 ha lavorato per l'album Senza Paura di Giorgia e nel 2016 per il disco Oro Nero, sempre della compagna Nel 2017 è stato regista del singolo Scelgo ancora di Te di Giorgia Nel video compaiono come protagonista la cantante, il coreografo e il figlio Samuel Figlio Il figlio di Emanuello è Samuel, nato il 18 febbraio 2010 dalla sua fantastica storia d'amore con la cantante Giorgia Giorgia e suo figlio Samuel Instagram A seguire Emanuello nel suo profilo Instagram sono oltre 38.000 follower La pagina del ballerino è un'oda alla sua sua vita poiché sono presenti scatti bellissimi della sua quotidianità, sia professionale, sia privata In molte immagini è con la sua compagna, la cantante Giorgia, dove mostrano al mondo la loro bellissima storia d'amore E infine, grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video